Partiti. In vantaggio My Chocolate con all'interno Clonet e a largo Controcorrente, poi più all'esterno Medea o Bodessa con vicino Bridge Destiny Man, a largo Kelly in Black, Coral Fast, poi Flanagan's Rowan Street ed in coda Reve Autopic. Controcorrente a metà gara figura in vantaggio sotto la minaccia di Medea o Bodessa, mentre all'esterno sta avanzando Kelly in Black, seguita da My Chocolate, Bridge Destiny Man e lungo la corda Clonet. Siamo a 200 dal palo con Controcorrente che figura in leggero vantaggio nei confronti di Flanagan's che ci prova all'interno, poi Clonet. Nel finale Controcorrente attaccata da Flanagan, poi Clonet terza su Kelly in Black e Reve Autopic. Andiamo a rivedere le immagini con Controcorrente e Salvo Basile a bersaglio, numero 4 dello schieramento ancora a difesa a mezza lunghezza nei confronti di Flanagan's, numero 9, poi al terzo posto Clonet con l'8 e al quarto il 10 di Kelly in Black. Quindi 4, 9, 8 il probabile ufficioso arrivo di questa terza corsa di Agnano.